Ma le ripeto, il 117 è il vero problema, perché Andrea Romano cosa va a parlare in Europa dicendo noi vogliamo cambiare verso l'Europa quando ti dicono ma cosa vuoi? Tanto quello che ti imponiamo è la tua Costituzione, che ti sei iscritto e che ha voluto far votare, comunque dice che devi fare quello che diciamo noi. Grande capacità di dialogo ci sarà con l'Unione Europea. Insomma è ovvio, secondo voi la Merkel che dice bisogna votare sì lo fa perché non dormiva la notte pensando che in Italia c'era il CNEL? Ma non prendiamoci in giro, lo fa perché gli stiamo dando un'arma e il coltello dalla parte del manico alla tecnico burocrazia europea contro gli interessi nazionali dei cittadini di questo paese, è ovvio, è chiaro, non è che la Merkel piangeva perché c'era il CNEL in Italia. Non prendiamoci in giro. Questa Renzi semplicemente sta eseguendo gli ordini ricevuti, non a caso tutti i grandi fautori del servilismo totale, che non vuol dire essere pro contro l'Europa perché noi siamo contrari a questo modello europeo, non siamo contro l'Europa perché non ci piace la parola. Siamo contro questo modello europeo e tutti i servi italiani a questo modello europeo ovviamente tutti ad applaudire, a festeggiare, a dire che è bello. Il problema è che dopo questo si riverserà concretamente sulle vite dei cittadini, se la pizza si può cuocere nel forno a legno o no, ma la cosa grave per esempio è con l'imposizione del BELIN dove i risparmiatori nelle banche saranno fregati, si troveranno fregati i loro risparmi sempre per colpa di cattivi amministratori e questo procede in posizione dell'Unione Europea. Andiamo a mano, abbiamo avuto una prova del fatto che...